in questo numero del salus tg la nao sul caso di decesso da super lavoro sentenza della cassazione pietra miliare l'isss dal 2013 trend in diminuzione per i vaccini obbligatori e raccomandati i medici di medicina generale una vergogna non farci prescrivere farmaci innovativi di troppo lavoro si può morire la sentenza della cassazione che ha ritenuto la spdn responsabile del decesso per super lavoro di un tecnico di radiologia è una pietra miliare della giurisprudenza in campo sanitario così la nao assomed principale sindacato della dirigenza medica che la considera la conferma della correlazione tra condizioni di lavoro sicurezza delle cure e integrità psicofisica dei lavoratori prolungati e stressanti turni lavorativi sono infatti associati a un rischio doppio di patologie cerebrovascolari compreso l'infarto e a una maggiore incidenza di tumori secondo una qualificata letteratura scientifica evidenziano dalla nao è per il successo delle strategie vaccinali il conseguente diffondersi di movimenti di opposizione alle vaccinazioni che a partire dal 2013 si è registrato un progressivo e inesorabile trend in diminuzione del ricorso alle vaccinazioni sia obbligatorie che raccomandate portando la copertura vaccinale al di sotto del 95 per cento lo ricorda l'istituto superiore di sanità in un'analisi dell'impatto epidemiologico delle patologie per i quali il decreto ha reso obbligatorie le vaccinazioni consegnata alla commissione sanità del senato sulla prescrizione dei farmaci innovativi vietate ai medici di medicina generale è stato sollevato un problema che ormai provoca solo imbarazzo nel nostro servizio sanitario nazionale lo afferma nei vertici della società italiana di medicina generale e delle cure primarie della federazione italiana medici di medicina generale commentando la questione posta da federico gelli componente della commissione affari sociali della camera in un'interrogazione parlamentare